Nel sacerdozio di Cristo ci sono tre grandi meraviglie, l'offerta di se stesso una volta per sempre per il perdono dei peccati, l'intercessione per noi davanti al Padre e il suo ritorno alla fine per portarci con Lui. Sono le tre tappe del sacerdozio di Cristo sottolineate da Papa Francesco nell'Omelia della Messa del Mattino celebrata a Casa Santa Marta, commentando il brano della lettera agli ebrei inserito nella liturgia del giorno. C'è questa grande meraviglia, questo sacerdozio di Gesù in tre tappe, quello che perdona i peccati una volta per sempre, quello che intercede adesso per noi è quello che succederà quando Lui torni, ma anche c'è il contrario, l'imperdonabile bestemmia. E' duro sentire Gesù dire queste cose, ma Lui lo dice e se Lui lo dice è vero. In verità io vi dico, tutto sarà perdonato ai figli degli uomini. Noi sappiamo che il Signore perdona tutto se noi apriamo un po' il cuore su tutto. I peccati e anche tutte le bestemmie che diranno, anche le bestemmie saranno perdonate. Ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno. È una bestemmia sul fondamento dell'amore di Dio che è la redenzione, ha spiegato il Papa, e chi dice queste cose è chiuso al perdono. Non si lascia perdonare perché rinnega l'unzione sacerdotale di Gesù fatta dallo Spirito Santo.